Cambio al vertice dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco. Questa mattina, alla presenza delle autorità civili e militari del Direttore Marittimo di Cagliari, il Capitano di Vascello Mario Valente, si è tenuta nel piazzale antistante alla Capitaneria la cerimonia del passaggio di consegne tra l'attuale comandante, il Tenente di Vascello Marco Martino Musmeci, e il Tenente di Vascello Fabio Vaccaro. Dopo due anni al comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo, il Tenente di Vascello Marco Martino Musmeci, che ha tenuto a ringraziare i presenti per il lavoro svolto e per l'accoglienza ricevuta a Sant'Antioco, andrà a rivestire l'altro incarico presso la Capitaneria di Porto di Barletta. Tra le importanti attività svolte sotto il suo comando, la complessa opera di totale rimozione del relito dell'unità mercantile Sidrae Blu, incagliatesi nel dicembre 2019 a Capo Sperone, le operazioni di salvaguardia delle vite umane, di pulizia e di controllo sul demagno marittimo, sulla filiera della pesca, l'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. A prendere il suo posto è ora il Tenente di Vascello Fabio Vaccaro, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, dove ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali Capo Sezione Demagno Ambiente Contenzioso e Capo Sezione Polizia Marittima. Dal 2012 al 2014 ha anche ricoperto l'incarico di ufficiale in seconda presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa.